Sono d'amici Lorenzo, siamo partiti io e mia moglie in Albania con la speranza di un futuro migliore e invece siamo stati ingannati. Adesso siamo tornati a Brindisi e l'assistenza sociale ci ha sbattuto la porta in faccia. Viviamo in macchina e chiediamo al sindaco di darci un alloggio anche di fortuna e un lavoro onesto e degnitoso.